Svegliati Alessandria, oggi è venerdì 3 febbraio 2023, mi trovo qui in via San Giovanni Bosco, come potete vedere dalle immagini, in fondo c'è la rotonda con Corso Romita, di là c'è il panorama e qui di fronte a me ci sono queste strane strisce, come potete vedere dalle queste immagini, faccio una zoomata, mi sembra alquanto strano e improbabile che appartengono a sostanze rilasciate dai fumi di scarico degli aerei, così ben definite, si espandono, stazionano su nel cielo, formano delle geometrie veramente così anche curiose da vedere nel cielo, sono esattamente le ore 8 del giorno 3 febbraio 2023 e mi trovo al quartiere Pista, esattamente in via San Giovanni Bosco, in fondo c'è il panorama, il sole sta sorgendo e queste strisce su nel cielo, così, non ci sono aerei, non c'è niente, non sono assolutamente nuvole, perché è impossibile, è una roba del genere, comunque lascio a voi libertà di pensiero, svegliati Alessandria!